Dare doppi onori agli anziani apostoli della Great Mewstone GMS per aver insegnato questa verità per la predicazione della parola della verità e saluto gli eletti della Casa di Israele, coloro che si impegnano e faticano nella predicazione della verità Shalua e Yehob HaShem Yachav HaShem Brakatam Sono con questo video per far mostrare un sito molto utile per i fratelli che intendono la lingua spagnola ma anche per quelli che intendono la lingua italiana perché lo spagnolo è molto simile all'italiano cioè viene dalla lingua italiana, dal latino italiano comunque si può usare anche Google Traduttura questo qua è il sito dei fratelli della GMS che significa Great Mewstone che significa Gran Pietra dei Mulino questo è il sito dei fratelli di Los Angeles che hanno fatto questo bel lavoro in spagnolo dove possiamo trovare molta edificazione, molto insegnamento e la verità al 100% come dallo spirito di Yehob HaShem Yachav HaShem sono stati guidati abbiamo la Home della Gran Pietra Mulino dove ci insegnano anche quando è il giorno del sabato, dello Shabbat, giorno del riposo in questo caso è iniziato il nuovo anno, ecco vediamo il 12 marzo 2021 qui troviamo molto materiale, molto edificazione, insegnamento possiamo vedere qui nella lista dove abbiamo i video dei campi dove si concentrano e insegnano i maestri questi sono i maestri e i profeti della casa di Yasharala, della casa di Israele è importante, volevo portarvi ecco in questo punto qua nella cerimonia della Pasqua perché ho fatto un video sulla dimostrazione della cerimonia della Pasqua e volevo farvi vedere dove prendere anche a voi le indicazioni su come poterla seguire la Pasqua qui ecco potete vedere come hanno fatto un bel lavoro, un gran lavoro questi Achiam di Los Angeles che stanno impegnando nella predicazione della sana dottrina del sano insegnamento possiamo vedere ecco come hanno fatto punto per punto, precetto per precetto ogni passaggio della Santa Pasqua, della Passac ci sono tutto quello che abbiamo bisogno per farla al meglio delle nostre possibilità e quindi ecco volevo farvi vedere questo qua volevo farvi vedere dove trovare le indicazioni per la Pasqua le troviamo come ho fatto vedere nella cerimonia della Pasqua quando andiamo facciamo campo vediamo che uno dei video più importanti è la cerimonia della Pasqua e in questo link qui troviamo tutto quello di cui abbiamo bisogno questo sito molto importante per la nostra crescita spirituale perché loro sono spiritualmente chiamati dal Padre per insegnare la verità, la sua verità nel nome di Yahawashai qui c'è materiale di studio che è molto edificante fa vedere, anche qui c'è il link dove potete scaricarvelo in pdf stamparvelo come ho fatto io, tradurvelo racconta molto bene tutti i precetti diciamo più importanti i punti più importanti dalla creazione della Genesi agli Edomiti il popolo dei così chiamati bianchi di oggi la maggior parte dei bianchi che sono i nemici della casa di Israele sono i malbaggi che abitano la terra la maledizione che ha colpito la nostra casa la maledizione che il Padre ha mandato per castigarci per aver disubbidito, per averlo abbandonato la Babilonia moderna, la grande Babilonia di oggi che è l'America i carri del Signore che sono i così chiamati UFO di oggi il nuovo regno, quello che stiamo aspettando e che preghiamo che venga presto è tutto molto edificante perché i fratelli spiegano molto bene e lo spiegano proprio precetto per precetto prendono dalla Bibbia, prendono la verità della Bibbia e sono stati molto bravi a creare ecco queste spiegazioni questi riassunti, perché questi sono dei riassunti perché la verità è così profonda che non basterebbero tutti i libri della Terra per raccontarlo e quindi spero di avervi mostrato qualcosa di importante e che vi possa servire, come a me è servito molto e lascio tutto questo nel sacronome di Yehaw Bashem Yehaw Ashai e saluto a tutti i fratelli della Casa di Israele a coloro che sono gli eletti e che lavorano in questa verità Shalom e Barakatam Shalom